Buongiorno a tutti i giorni per la prossima giornata in classica di vista solo su un'idea con il primo classe A, con Barbara De Lullo, Barbara Lanca, Donnella Chiaghello, Laura Luscona, il trattamento di vista Sabrina Paglianani, Maria Buglia, Miocchi, Jessica Tatti, Simona Marucci, Barbara Ferrari, Elisa Peggi, Francesca Alessandro, Francesca Montalto. Iniziamo la seconda termine di questo gruppo di semifinale, a termine di questo gruppo di semifinale il nuovo spareggio, attenzione, del solo 3.019 di 7.000, turno di spareggio 19 di 7.000 a seguire con le trede 166, 346, 430, 460, queste 4.30 devono prepararsi al resto della pista quest'ultimo vara iniziamo, Sasa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.